Lo avevamo anticipato in apertura, oggi avremo parlato anche di ghiacciai, di acqua sostanzialmente, lo faremo attraverso questo evento, la carovana dei ghiacciai, una delle tante iniziative di Lega Ambiente e per parlare appunto di questa iniziativa abbiamo in videocollegamento con noi Vanda Bonardo, responsabile nazionale Alpi Lega Ambiente e presidente Cipra Italia. Cipra sta per Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, appunto. Buongiorno Vanda, bentrovata. Buongiorno a voi. La carovana dei ghiacciai si è conclusa solo qualche giorno fa, quindi ti chiederei di farci una riflessione a tema, di raccontarci com'è andata quest'anno. Intanto è una campagna internazionale, già dall'anno scorso noi siamo andati al di là dei nostri confini, siamo stati quest'anno in Francia e in Slovenia, in modo da avere un quadro pressoché completo della situazione. Sì, purtroppo le notizie non sono straordinariamente belle, anche se quest'anno un pochino meglio rispetto all'anno scorso perché le nevicate primaverili hanno costituito una sorta di coperta che ha protetto i ghiacciai, però i risultati al momento non sono molto belli. È vero che la campagna scientifica si concluderà a fine ottobre, ma già posso dire che nonostante le grandi nevicate i ghiacciai assolutamente non avanzano, ma anzi continua il regresso. Vanda, la dico in maniera così un po' provocatoria, nel senso che, mi spiego, probabilmente non abbiamo ancora dati scientifici sufficienti per affermare con esattezza, puntuale, quali sono tutte le cause dei cambiamenti climatici, ma che i cambiamenti climatici siano in atto, quello sì, è un dato evidente. Ecco, la statistica che cosa ci sta raccontando in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni? Allora, io lo racconto anche un po' da insegnante di scienze quale sono stata. Cioè, nei millenni passati ci sono state delle alternanze di momenti caldi con momenti più freddi, chiaramente momenti caldi dove c'era una regressione dei ghiacciai e momenti più freddi dove i ghiacciai avanzavano. E devo dire che all'università addirittura mi si diceva, ma negli anni Ottanta è probabile che ci sia una nuova glaciazione, piccola glaciazione, e invece no. E invece no, a parte l'avanzata piccola negli anni Ottanta, poi si è fatto sentire il caldo, il caldo in conseguenza dell'immissione di gas climaterianti. E noi abbiamo osservato un'accelerazione degli aumenti di temperatura, ma anche degli effetti, che vi dico che a volte lascia una poca aperta persino a noi che ci lavoriamo tutti i giorni. Ecco, quindi con tutta evidenza il ragionamento che stai facendo ci vuole portare alla conclusione che la nostra incidenza, l'incidenza del fattore umano sul pianeta e sui cambiamenti climatici è abbastanza, come dire, conseguenziale a questi cambiamenti. Cioè che la nostra azione sul pianeta, per il pianeta, non passa inosservata, non passa indifferente. Siamo quantomeno corresponsabili di questi cambiamenti climatici. Sì, 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 sì. Oramai il 99% degli scienziati che fanno capo all'IPCC ci conferma, ma non solo guardando gli acciai, guardando la temperatura, guardando cosa capita agli oceani, cioè osservando tutta una serie di fattori, quindi non c'è solo un tipo di esperto che dice questo. Cioè tutti quanti confermano che c'è questo aumento di temperatura che è collegato all'aumento di anidride carbonica. E l'anidride carbonica è aumentata perché noi abbiamo deciso di consumare tanta energia, energia attraverso le fonti fossili. A denunciare in maniera forte e decisa proprio questo stile di vita non corretto, possiamo dirlo, è lo stesso Papa Francesco. E Papa Francesco, che non si stanca mai di ribadirlo, una dei leader mondiali, una delle voci autorevoli che più costantemente appunto si spende sull'argomento, l'ha messo anche nero su bianco, lo dicevamo qualche istante fa, prima con l'enciclica Laudato Si, poi con l'esortazione apostolica Laudate Deum, dove è andato giù proprio in maniera molto analitica ad affrontare il tema senza giri di parola, senza troppi giri di parole, ci ha chiesto, ha chiesto a tutti quanti noi un impegno più fattivo. In apertura con l'economista, il professor Francesco Lenoce, abbiamo anche parlato di quanto sia importante che la nostra economia da lineare diventi sempre più circolare. Professoressa, può bastare questo o dobbiamo fare ancora di più, ancora meglio? Intanto devo dire che per noi quanto è stato scritto da Papa Francesco è stato di grande aiuto, soprattutto l'ultima lettera di esortazione. io mi sono ritrovata al 1000%, perché è quella la strada da perseguire. E quindi noi dobbiamo, ognuno di noi deve fare la propria parte, io dico sempre, perché saremo un granellino, però i granellini formano le spiagge, i banchi di sabbia. e quindi ognuno di noi deve pensare che bisogna avere uno stile di vita più sobrio. Io non dico privarci, ma non sprecare, non consumare esageratamente in modo da ridurre il consumo di materia e quindi tutto quel che c'è, ad esempio, rispetto all'economia circolare e soprattutto di energia. Dopodiché noi auspichiamo che le istituzioni facciano la loro parte, una parte tutt'altro che secondaria, perché ci devono dare gli indirizzi, ci devono dire che cosa fare. E vedo che molto spesso le istituzioni sono piuttosto distanti da questi problemi. Siamo d'accordo. Così come siamo d'accordo sul fatto che ognuno di noi debba fare la propria parte, è un refrain su cui siamo ritornati spesso anche durante la scorsa stagione, perché è vero che la nostra è una piccola parte, però abbiamo fatto spesso questa considerazione che vogliamo condividere anche con lei. Sul pianeta Terra ormai siamo 8 miliardi di persone che quotidianamente fanno azioni che possono incidere in un modo o nell'altro bene o male sul pianeta e l'età media di ognuno di noi, l'età media della vita umana, si è progressivamente molto allungata, per cui anche se piccola, la nostra parte può essere replicata quotidianamente per tanti anni, per cui l'incidenza delle azioni di ciascuno di noi non è affatto secondaria, per cui valeva la pena ricordare l'importanza di queste scelte individuali che dobbiamo concretizzare ogni giorno. Poi ovviamente anche gli enti e le istituzioni devono aiutarci in questo senso. Le farei come ultima domanda, qual è la sua percezione del cambiamento in atto proprio a livello fattivo, concreto, al di là dei proclami, dei manifesti e tante volte anche delle leggi, perché se non vengono attuate rimangono lettera morta. Secondo te, secondo lei, chiedo scusa, qual è il polso della situazione al momento? Ma allora, il polso della situazione, come racconto attraverso i ghiacciai, insomma non dice nulla di buono e di positivo, perché ci stiamo, sì, si sta facendo qualcosa, ma ci stiamo muovendo troppo lentamente. I cambiamenti climatici, come dicevo prima, stanno andando sempre più velocemente e noi siamo lenti, non riusciamo a star dietro a tutto questo. Lo dico sia rispetto a quelle che sono le buone pratiche che noi chiamiamo di mitigazione, cioè di riduzione dei gas serra, ma anche di adattamento, perché ad esempio gli eventi estremi stanno aumentando, cioè quegli eventi che fanno sì che in poco tempo scenda tantissima acqua o che ci siano stagioni incredibilmente siccitose o venti tipo vaia. E noi, nonostante ci siano dei piani nazionali, non siamo ancora adeguati a contrastare i rischi che ahimè stanno aumentando. Quindi più veloci, più attenti a questo e meno ad altre frivolezze e più concreti anche nel fare delle scelte, a volte anche insomma poco raggiose. Molto bene dottoressa Bonnardo, noi siamo qui per questo, proprio per ricordarcelo che dobbiamo essere più attenti e più veloci, ecco, più pronti a fare la nostra parte. La ringraziamo per essere stata con noi stamattina, per averci restituito il dato relativo ai ghiacciai che sono una parte indispensabile dell'ecosistema e spero di ritrovarla presto in collegamento con noi. Intanto le auguro buon proseguimento di giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie, grazie alla dottoressa Bonnardo, responsabile nazionale Alpi Lega Ambiente per averci aiutato a fare il punto sulla situazione dei ghiacciai con la carovana dei ghiacciai di Lega Ambiente. Noi ci fermiamo ancora una volta per una pausa pubblicitaria poi ci ritroviamo insieme per l'ultima parte del programma. Grazie a tutti.